Tra le bocche di porto, nei pressi della fine per il cantiere per il Mose, ci sono masse importanti che non sono stati segnalati e che sono discosti dai frangiflutti, che accostano e proteggono la diga. Non ostacolano certamente la navigazione, ma sarebbero pericolosi nel caso in cui qualche natante dovesse avvicinarsi, manovra comunque vietata a partire da una certa distanza. Chi è del luogo, oltre a sapere che non ci si può avvicinare alla diga foranea, sa anche della presenza di questi grossi massi sommersi, appena visibili sotto il pelo dell'acqua con la bassa marea. Ma chi non è del luogo potrebbe rischiare lo scafo. Chi ce lo segnala chiede che siano i massi ad essere segnalati, con una qualche boa, in modo che nessuno possa non essere a conoscenza e rischiare, con qualche manovra azzardata, di finirci addosso. Grazie per la visione!